Buongiorno, mi chiamo Paolo Pichi, sono laureato in scienza dell'educazione, ho un master in educazione sportiva e conseguente diploma, mi occupo dei bambini perché il mio mondo è quello dei bambini che fanno attività motoria e sportiva, insegno a scuola e il mio obiettivo è quello proprio di far arrivare i bambini a essere consapevoli del loro movimento, grazie a un'attività molto mirata dove si sviluppa anche il pensiero, quindi ogni movimento è legato al pensiero, io ed altri specialisti del settore abbiamo creato una metodologia di lavoro che si chiama motricità con team educativa che aiuta i bambini proprio a risolvere i problemi attraverso del pistino, quindi l'obiettivo è proprio quello di renderli consapevoli del loro movimento. In pratica si vuole arrivare a formare risolutori di problemi e non esecutori di gesti, il bambino diventa protagonista del suo agire, faccio il formatore per educatori, allenatori e insegnanti e genitori e per Focus on You seguirò voi genitori nella scelta delle attività motorie, sportive e ludiche dei vostri figli, metterò la mia esperienza al vostro servizio consigliandomi e indirizzandomi senza dimenticare che i bambini usano prima di tutto il gioco come linguaggio, cercheremo poi attraverso video e articoli di approfondire le metodologie, scoprire nuove tecniche di insegnamento, trovare stimoli e linguaggi che vi permettano per esempio di condividere con i vostri figli le passioni sportive e il vostro tempo libero. Vi aspetto su Focus on You!